Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Siamo con i Foot Birthday Foot Birthday è uno degli eventi forse più importanti Perché l'anno scorso mi ricordo è uscito Bappé Foot Birthday E è successo il panico Tutti i giocatori padente sono scesi di prezzi Ronaldo Razzari, tutti i giocatori top Perché proprio questa carta era clamorosa Era uno dei giocatori più forti quest'anno Come ci dobbiamo comportare con i Foot Birthday? Si possono fare tanti crediti sicuramente Perché c'è tanta gente che spacchetta Quindi molti, essendoci tanta offerta Potrebbero scendere tantissimo i prezzi Anche degli 84 ad esempio Comprarne tanti per poi rivendere quando esce qualche SBC Una prima tip di compra vendita Comunque oggi non sono qui per parlarvi di compra vendita Sono qui per parlarvi dei migliori attaccanti Che dobbiamo comprare durante il Foot Birthday Cioè non le carte che usciranno Perché ci sono un paio di leak Ve li farò vedere durante il video Cioè un paio di giocatori che stanno già Quali sono quelli confermati E poi vi dirò quali giocatori in meta Quindi gli attaccanti più forti A prescindere dal Foot Birthday Che dobbiamo comprare venerdì Quindi venerdì alle 19 Anzi alle 20 Tenderanno già a scendere un pochettino E poi piano piano tenderanno a scendere ancora di più Quindi andremo a vedere un po' quali attaccanti comprare Andiamo a vedere un po' innanzitutto la schermata Del Foot Birthday Possiamo vedere qui Questa è la schermata tra un giorno e sette ore Vi faccio vedere qualche leak Qualche giocatore che è uscito Cioè è confermato E ci sono alcuni interessantissimi Non ho la cam Mega fail Bellissimo ragazzi Un attimo Non mi sono accorto Perfetto Sono ritornato Lo metterò nel video questa parte Non la cancellerò perché è bellissimo Un mega fail clamoroso Comunque Andiamo a vedere quali sono i giocatori che sono usciti Cioè quelli confermati Cosa succederà secondo me sul mercato Allora mettiamo Vi faccio un altro mega fail Andiamo a vedere i giocatori confermati Io seguo questa pagina qui Anzi non la seguo però Dovrò seguirla Prima o poi Allora Questi sono i giocatori Praticamente dice Chi è il tuo favorito E Su chi speri che uscirà praticamente domani La prima carta interessantissima E' questo Mindy Mindy Forse da 150 anni Che stiamo aspettando una carta sua potenziata Perché E' un bel difensore E' molto competitivo Anche quello base Ma parliamoci chiaro Quando troviamo Troviamo i tuoi di contro Sto caspita di Mindy Base Ci fa Iastimare tutti i santi Quindi questa qui Che è una carta tra l'altro Confermata Vi ripeto Quindi uscirà E costerà tantissimo Io prevedo anche Un rialzo Non voglio fare Il trader di turno Non sono bravo in questo Io faccio il pro player Sono bravo a giocare Quello posso fare Magari In trading Su FIFA Posso sentire il parere Di qualche Ragazzo bravo Nella comprensione Posso darvi qualche consiglio Comunque Secondo me Aumenterà anche il prezzo Di Varan FIFA Champions League Perché comunque Uno dei principali problemi Di Varan FIFA Champions League Era proprio il fatto Che dovevi rimetterlo Con Mindy Mindy 5 skill moves E 4 piedi debole Molto 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 Buono Perché considerate Un giocatore 99 di velocità Con 4 piedi debole E soprattutto 5 skill moves Cioè quindi 5 stelle skill Questo qua Sarà una cosa Clamorosa Altro giocatore Licato E Lucas Con 5 Ehm Phil Non so che Penso che sia Comunque skill moves Forse hanno sbagato Qua non lo so Ehm 89 Trequartista Altro giocatore Clamoroso Perché comunque Ha un bel body type Trequartista Cioè Ci sono uscite Delle carte Dei leak Molto molto Interessanti Io prevedo Che Molti giocatori Scenderanno di prezzo Domani Domani alle 7 Quindi aspettatevi Che ci sarà Un bel crollo Di prezzi Anzi A me già da ora Quando incominciano A leccare Liccare Alcuni giocatori Interessanti Potrebbero scendere Comunque Heowin Chan Questo suo Era un buggone D'inizio anno Se non so se ve lo ricordate Ehm Anche questo qua Non ho le mani 98 di velocità Poi bisogna vedere Poi in game Come si comportano Comunque Il video Ehm Vi ho fatto Una piccola Introduzione Questa è la squadra mia Che comunque Ho dovuto fare Ieri Perché comunque Oggi ho la E nazionale Quindi Sono in live Oggi pomeriggio Sulla piattaforma Viola Trovate i link In descrizione Per la E nazionale E poi per l'apertura Dei premi Quindi Guardate questo video E poi venite su Twitch Oh cazzo Ho detto Twitch La piattaforma Viola Ehm Se venite Comunque nella piattaforma Viola Volete farvi aprire i pacchetti Io devo aprire ancora I miei Division Rivals E della Food Champions Ragazzi Allora Parliamo del video Parliamo di Quali giocatori Dovete comprare Ragazzi Allora Ragazzi Io Mi consiglio 4-5 punte Che per me Sono le più forti Al di là Di tutti i giocatori Che usciranno Bla 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 Io vi consiglio uno Il top 1 Partiamo subito Col botto Ragazzi Dovete comprare questo Io l'ho pagato 1.199.000 Ok Mo Se mi sono usciti Già il leak Non so quanto Potrebbe costare Attualmente Mo ve lo dico Al volo Neymar però Secondo me È il giocatore Che dovete comprare A prescindere Perché Non è anche più forte Di Toti Di Ronaldo Perché Ha una caratteristica Fondamentale Quando il gameplay È lento e marcio Lui è sempre forte Cioè Neymar È sempre forte Nel gameplay veloce È forte Nel gameplay lento È forte Per me È il titolare Imprescindibile Cioè Ronaldo Toti Ok è fortissimo Con il gameplay Veloce Ma quando il gameplay È lento Ragazzi Non vi pensate Che si muova tantissimo È un bel mattone Anche lui Anche il Toti Neymar è il classico Giocatore che non soffre Questa cosa qui Quindi io ve lo straconsiglio Poi ovviamente Può piacere Come può non piacere Se è ben chiaro Però Consiglio mio personale Io lo andrei Io lo andrei a comprare Tutta la vita Vabbè 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 Vi faccio vedere Un po' di prezzo Io ho pagato 1 e 2 Praticamente Poi vediamo Quanto sta Altro giocatore Molto molto interessante Cioè Su cui dovete puntare Ovviamente Vi sto dicendo i top Cioè Dei giocatori Molto molto interessanti E che potrebbero Crollare tanto di Prezzo Parliamo di Mbappé Cioè L'ha copiata Mbappé Neymar Però Mbappé Questo qui Ragazzi Questo qui Ci sono un paio Di italiani Tipo Hazers Che ha vinto Un evento Con Mbappé Rulebreaker Questo qui potrebbe Scendere di prezzo Attenzione Il film è già esceso Un pochettino Questo qua È accoppiata Con Neymar Per forza Ragazzi Io vi sto dicendo I top I top Che dovete comprare Perché ora Scendono di prezzo Loro L'accoppiata Neymar Mbappé È clamorosa Quest'anno Lo erano anche L'anno scorso Perché si Combina benissimo Cristiano Ronaldo Ha avuto Anche Una Un' Un'iscesa Un'iscesa Del suo prezzo Clamorosa Quindi Ronaldo Però secondo me Ronaldo In questo momento Del gioco Minimo il 94 Dovete comprare Cioè non vi consiglio Dipende del 93 94 Approfittate Praticamente Di questa promo Scenderanno i prezzi E questi due 95 94 Potete prenderli Però Dipende da quanti Crediti avete Io Ripeto Io farei tutta la vita Neymar Mbappé Attualmente Per come fate il gioco Ronaldo costa già di più Ronaldo però c'è da dire Che è anche più buggato Cioè quando fai le finte Buggate del meta Come il tunnel Gli sprint boost Particolari Con il suo fisico Prende una velocità Allucinante Quindi potrebbe essere buono Però Classico giocatore Che se il gameplay È lento Lo soffre Quindi principalmente Ovviamente Sono i tre top Queste Sono quelli Che dovete comprare Poi Ovviamente Ragazzi Approfittate di questa promo Dovete comprare Questi giocatori E poi Se non avete tantissimi Crediti dovete puntare Ai giocatori Con 5 stelle skill Scusatemi Con 5 stelle skill Con 4 di piede Debole minimo Quindi in questo caso Andiamo a vedere Su footburn Footburn Non so se i prezzi Sono scesi o meno Me lo faccio vedere Praticamente da qui Mettiamo le Attimo Ok Ok Non si vede nome Fantastico E questi sono i fail Ragazzi Sono i fail Clamorosi Perfetto Allora Questi sono tutti i giocatori Andiamo a mettere Su footburn 5 stelle skill E vi consiglio Tutti i giocatori Che dovete comprare Un consiglio Ovviamente Questi sono tutti I più forti Ci sono giocatori Allucinanti Mettiamo attaccanti Così facciamo prima E vi consiglio Sicuramente Quei 3 Dovete andare a comprare Venerdì Per forza Perché comunque Quelli vi fanno una differenza In game ragazzi Poi Vi rivedo Vedi Qui già c'è anche Anche in Bappi base Va benissimo Certo è un po' più limitato Però attualmente Sta a 600.000 credit Ragazzi Se siamo Quasi ad aprile Se non avete 600.000 credit È Clamoroso Neymar Costa 478.000 credit Mbappé 622 Cioè questi due ragazzi Dovete puntare E domani Se non vi scenderanno Ancora di più di prezzo Perché la gente spacchetta La gente spacchetta Questo qui costa ancora 2.225.000 Quindi potrebbe Scendere ancora di più domani Se dovesse uscire Qualche giocatore top Davanti Cristiano Ronaldo Non il base Perché il base Dei ragazzi Non ve lo consiglio Mai nella vita Poi dall'altro Domani Potete anche sfruttare Il fatto di Mbappé 92 Cioè domani C'è tanto spacchettamento Quindi cominciate a comprare Il B86 Per farvi un bel gruzzoletto Di giocatori Per fare anche L'SBC Di Mbappé Potrebbe essere Una buona mossa E Poi Questo qua non c'è tra niente E il Sharawi Vabbè comunque Questo qua è l'SBC Non ci sono proprio Giocatori comunque Clamorosi Ci sta anche Rashford Potrebbe essere interessante Però con gli 444.000 credit Non lo prenderò mai Il prezzo Mai E poi mai Quindi Quello che dobbiamo fare È questo qui I prezzi scenderanno Dobbiamo comprare I tre top Neymar Bappé E Ronaldo Perché se volete fare Qualcosa di Particolare Cioè dovete fare Il fuoriclasse Uno Top 100 Quello che è Quei giocatori lì Con 5 stelle skill Neymar Bappé E Ronaldo Fa una differenza Ve lo dico Io Non sento di consigliarvi Qualc'altro giocatore Si potrebbe essere buono Anche Rashford C'è questi giocatori qui Ma Zaha Ma Non sono a quel livello Domani dovete sfruttare Forte verde Andate a comprare questi giocatori Tre giocatori Top Su cui puntare tutto Tutto Se riuscite a prendere anche le versioni migliori È ancora meglio Ok Io ragazzi Vi saluto Vi ho spiegato un po' in questo video Come vi dovete comportare domani Cioè Ci sono un paio di consigli di compraventa Un paio di consigli su chi dovete comprare Anche se per molti può considerarsi Un Qualcosa di Di scontato Vi posso assicurare che molti Magari non vanno a comprare questi giocatori Cioè Neymar Bappé E Ronaldo Domani alle 7 8 9 Quando vedete che stanno scendendo tanto i prezzi Perché scenderanno i prezzi Dovete andare a comprare Se riuscite a prendere le versioni migliori È la cosa migliore Può sembrare un po' scontato Dici Vabbè è normale che consigli Ronaldo Mbappé E Neymar Ok ragazzi Posso assicurare che non è normale Perché molti lo vanno a comprare oggi Molti l'hanno già comprato Io vi sto dicendo Che nel footbird I giocatori che dovete acquistare Per forza Perché dovete sfruttare questa promozione Sono proprio queste tre Perché vi fanno la differenza Ok Non guardate la difesa Non guardate il centrocampo Ragazzi Non vedete puntare queste tre attaccanti Io spero di esservi L'aiuto Venite su Twitch Che ne parliamo E discutiamo un po' Di questa promozione E qualche leak Che uscirà durante la giornata Vi aspetto Mi raccomando Commentate qui sotto Che tipo di video volete Domani o dopodomani Cercherò di farvelo Spero vi sia piaciuto anche il fail Che ho fatto con la webcam Un bacione Belli Ci vediamo nella piattaforma Viola Un bacio Mi raccomando Like E iscrizione al canale Ciao ciao ragazzi